Però io mi chiedevo, ci sarà ancora Ilari? Ilari, colleghiamoci dai, la nostra opinionista da casa Giappi, oh finalmente una cosa di classe Ma che è, Giappi Educational? Sì, probabile Comunque, bravi ragazzi cincine Però vi posso dire una cosa? Vi siete inventati niente Ho inventato io i ragazzi cincine all'isola Ma come? In che senso? Ma secondo voi, una volta che è finita la puntata In africa, telecamere spente Prima di andare a dormire, sai quanti cincine? Ma no, ma no Ma no, ma no Ma no, ma senti, ma che condominio stiamo? Ma chi? A B o C, e dai, e tu? Ero tutte e tre insieme